Verba Manent, le parole restano tra musica e teatro nel cartellone di eventi organizzato dall'Accademia Teatrale Arutron in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Tre appuntamenti all'Auditorium Flaiano con artisti che rispondono ai nomi di Tosca, Neri Marco Re e Antonio Rezza. Si comincia questa sera alle ore 21 con gli appunti musicali dal mondo cantati sul palcoscenico del Flaiano di Pescara dalla voce straordinaria di Tosca. Appunti musicali dal mondo è il primo concerto che si inserisce nel progetto Verba Manent che è un viaggio nel potere di persistenza della parola. Nello specifico Appunti musicali dal mondo è un racconto in musica fatto di contaminazioni in cui culture diverse si intrecciano per regalarci un mosaico musicale armonioso e variegato. Sonorità tipiche del portogallo, una ninna nanna giapponese, un canto sciamano, un canto della tradizione dei matrimoni iddish, fino ad arrivare addirittura alla musica napoletana, la musica siciliana e alla musica romana, finendo poi con i grandi classici della canzone italiana. Questa è la possibilità che Arotron dà al territorio di avere artisti importanti e di far sì che i nostri giovani che si stanno formando, giovani attori della nostra Accademia di Formazione Professionale, si confrontino e abbiano la possibilità e il privilegio di stare in scena con questi artisti. Per Tosca apriranno il concerto i nostri giovani allievi attori e attori diplomati ad Arotron. Dopo l'esibizione di Tosca con gli appunti musicali dal mondo questa sera alle 21 sul palcoscenico dell'Auditorium Flaiano di Pescara, martedì 19 marzo sarà la volta di Neri Marco Re con lo spettacolo Le mie canzoni altrui e domenica 5 maggio. A chiudere il calendario degli spettacoli di Verba Manent sarà Antonio Rezza, che sul palcoscenico del Flaiano porterà Anelante a firma di Rezza Mastrella. Verba Manent, sì, le parole restano, le parole sono importanti, vanno usate bene, vanno conosciute, approfondite e facciamo una stagione di linguaggi contemporanei. Vogliamo cercare di portare a nostra città il meglio della cultura contemporanea grazie all'Accademia Arotron e a Franco Manella che è il direttore artistico di questa stagione. Sono tre appuntamenti molto amati a questa città e saranno molto partecipati. Vi invitiamo davvero ad esserci Verba Manent. Grazie. Grazie a tutti